Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha citato il Comune davanti al Tribunale Amministrativo della Campania perché ritiene che la SSC Napoli non debba pagare ai vigili urbani i servizi di viabilità straordinari in occasione delle gare degli azzurri al Maradona, perché competi al Comune. De Laurentiis, nel ricorso che prende le mosse da sentenze della Corte dei Conti di Reggio Emilia, pone diversi dubbi sulla materia, ma sicuramente non è una mossa buona per riaprire un dialogo sul futuro del Maradona, della sua ristrutturazione e della possibilità di ospitare gli europei di calcio nel 2032. Il Comune, per il Patron, ha varato un regolamento di manifeste illogicità, irrazionalità, irragionevolezza dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, contraddittorietà del regolamento e dell'azione amministrativa, disparità di trattamento ed eccesso di potere. Palazzo San Giacomo si opporrà e si presenterà davanti al Tribunale Amministrativo con le sue ragioni. Il Sindaco, questo trapela, si affida alle valutazioni della magistratura amministrativa. Il regolamento comunale è stato approvato in virtù di una legge nazionale che viene infatti applicata anche ad altre squadre di calcio dei rispettivi comuni. Una mossa, quella di De Laurentiis, per avere lo stadio a zero euro. Ma sulla struttura di fuorigrotta, fanno notare da Palazzo San Giacomo, al Patron è stato fatto un report preciso su quello che serve. Ma soprattutto al Sindaco, l'ultimatum lanciato da De Laurentiis, che vuole risposte entro giugno, dal Comune non è gradito e se non arriva una proposta non possono essere date delle risposte.